Continuano a calare i nuovi contagi da Covid, questa volta il decremento rispetto alla settimana scorsa è più deciso e arriva a un meno 9,9%. I nuovi casi sono 1.205, erano 1.338 nei sette giorni precedenti. Il decremento dei casi è generalizzato, in Emilia Romagna la media scende del 4,7%, mentre in Lombardia del 9,1%, in Italia del 13%. Nell'Ecra lo screening ha permesso di far emergere 25 nuove diagnosi tra gli ospiti e 8 tra gli operatori. Nella maggior parte dei casi gli anziani sono asintomatici. Si riduce il lavoro per le USCA con 183 contatti per l'intervento delle squadre, la settimana scorsa erano stati 232. Un altro dato significativo riguarda le fasce d'età delle nuove diagnosi. L'incidenza più alta riguarda le persone over 80, è probabile che si sia ridotta l'efficacia della copertura vaccinale. Di qui l'invito dell'Asla procedere con la quarta dose per le categorie per le quali è previsto, oltre ottantenni e persone fragili tra i 60 e i 79 anni. Al momento la situazione della rete ospedaliera è stazionaria. La media giornaliera degli accessi in pronto soccorso per pazienti con sintomi da Covid è 7. La media settimanale dei ricoveri è leggermente in crescita, 135, 8 in più della settimana precedente. I numeri non decrescono. Il primo maggio i ricoveri erano 138. Per quanto riguarda la vaccinazione, l'attività è stazionaria, senza progressi nel tasso di copertura della popolazione. La settimana scorsa sono state fatte 1.282 somministrazioni. La percentuale dei vaccinati continua a rimanere attestata sul 90,3%. I vaccinati con la terza dose sono l'80,9% del target. Oggi il Covid ha fatto registrare 128 nuovi casi e una vittima, una donna di 86 anni.